E' stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Tendenza di San Cataldo e dal nucleo operativo di Caltanissetta, un uomo di 46 anni, Michelangelo Spagnolo, un pregiudicato nisseno. I carabinieri da tempo seguivano le mosse dell'uomo e hanno effettuato un blitz nella casa di Spagnolo intorno alle 20, trovandolo in possesso di 30 dosi di cocaina per un totale complessivo di 35 grammi di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre trovati un bilancino, vario materiale per il confezionamento, per il taglio, tutto posto ovviamente sotto sequestro. E' stato trovato tra l'altro un tacquino con nomi e cifre, ovviamente un libro mastro dell'attività di spaccio con relativi acquirenti, ora al vaglio dei carabinieri. L'uomo difeso dall'avvocato Gianluca Guida è stato portato al carcere di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria.